La squadra è un gruppo molto giovane, molto indubbiamente accogliente, mi sono trovato fin dall'inizio molto bene, gran parte dei giocatori li conoscevo già e li ho ritrovati diciamo. C'è un gruppo molto affiatato, hanno tutti tanta voglia di mostrarsi ed è veramente bello, un bel ambiente. Questa precisione mi sta sembrando molto impegnativa ma molto bella, ci stiamo divertendo un sacco, abbiamo il giusto tempo di recupero quindi all'allenamento diamo sempre il massimo. Nelle ultime settimane stiamo introducendo molto di più il rugby, prima le settimane precedenti, quelle iniziali ci siamo concentrati più sul lavoro aerobico, di potenziamento, livello fisico stiamo lavorando sempre però adesso c'è più rugby, più skills, più avvicinato al rugby. Fisicamente mi sento molto bene, penso di essere in gran forma e stiamo lavorando molto bene. Con lo staff mi trovo molto bene, mi stanno aggiustando qualche piccolo dettaglio che è fondamentale a questo livello e mi stanno molto aiutando. I compagni di reparto indubbiamente ci sono tanti e molto competenti diciamo, abbiamo un ottimo rapporto sia dentro che fuori dal campo, c'è molta competizione agonistica ma diciamo competizione buona, ci aiutiamo a vicenda ed è una bellissima cosa questa. Quest'anno spero di diventare un giocatore a tutto tono delle zebre, confermarmi il mio posto di squadra e perché no magari ambire la maglietta azzurra. Spero di offrire tanto entusiasmo in allenamento, in partita, voglia di fare, magari spronare, a dare di più. Questo sicuramente deve essere per me un anno di riscatto, confermarmi in squadra e basta.